Allora, siamo con Laura Gouquet a Rivellino. Laura, diciamoci sull'esibizione qui a Rivellino. Sono molto felice che sono stato invitata da Mr. Arminio Chely ad esibirlo in questa galleria. Presento due cicli di lavoro, l'uno è chiamato l'easy choice e l'altro è il progetto sull'esibizione, che si chiama Free Worlds. Sono più grandi da la vita, iperrealistici. In portratti, come si tratta di attorno con il soggetto che ti portate? Ho fatto diversi progetti di portratti in Lithuania e all'interno, e, più oltre, hai bisogno di essere in contatto con il soggetto. Per questo progetto in l'Arizona Refugee Camp, ho restato qui per due settembre, volontariato qui, e mi ha aiutato a incontrare le persone, a riuscire con loro, e a portratti portratti. e in Lithuania ho avuto il progetto di portratti in Lithuania, quindi ho viaggiato durante i mesi summer, in Lithuania e i villaggi, invitato le persone per portratti e per partecipare nel mio progetto. Quindi è sempre un contatto con il soggetto. dove ti porti l'aspirazione? La vita in cui è un'aspirazione, quindi devi andare con il flore, e poi tutto è solito naturalmente. E, ovviamente, da i cinema, i libri di Rumi e Binarabhi, la poesia, sono stata inspirata da questo, da i professori sufi, anche da i professori sufi, da i professori sufi, da i professori sufi. Grazie mille, Lava. Grazie mille. Grazie mille.